1, 2, 3, 4 4, si va ad incominciare Tantissimo, tantissimo è cambiata però non cambiano le esigenze che spingono la gente a fare musica che poi di base sono due, quella tendente all'evasione e quella che tende invece a sottolineare le cose principali che ti suscitano delle emozioni, indignazione, rabbia ed altre cose noi apparteniamo al secondo filone e questo secondo filone c'è e c'è da tanto tempo e non cambia niente cambia che così adondate peraltro non prevedibili alle volte si girano dei riflettori nella direzione di ciò che si muove nell'underground noi ci siamo trovati per esempio presenti quando uno di questi riflettori si è girato più o meno intorno ai primi anni 90 e oggi siamo qui ce ne sono però tantissimi che continuano a fare come dire, a riempire di significato i cosiddetti bassi fondi ed è da là che vengono tutti gli stimoli più interessanti per me nella musica come anche nelle altre forme di espressione sì, still running perché Curru Agliolo originale ha fatto 20 anni e quindi quando ci siamo accorti di essere come dire i genitori di un figlio ormai più che maggiorenne abbiamo pensato di fargli questa festa e di far partecipare alla festa tutti quelli che gran parte, non diciamo non tutti ma gran parte di quelli che hanno avuto un rapporto con questo disco quando erano giovani o meno giovani o giovanissimi comunque l'hanno ascoltato l'ascolto gli ha comportato delle cose e 20 anni dopo hanno avuto come dire noi abbiamo avuto l'opportunità di averli ospiti e loro hanno avuto l'opportunità di restituire un po' al disco quello che il disco aveva dato a loro potendo gestire chi le musiche chi un'intera strofa da cambiare di una delle nuove canzoni del disco c'è un'intera strofa di una delle nuove canzoni del disco nonosa so f Chiamati Il reggae è proprio il ritmo dell'altro mondo possibile, un ritmo che non ha a che fare con il mondo costruito attorno alle aziende che ci opprime ormai da troppo tempo. È il ritmo del cuore, dell'uomo, non solo dell'uomo, ma dell'uomo che cerca di trovare un rapporto con ciò che lo circonda, con l'ambiente, con la natura, nel rispetto di tutte le diversità e di tutto ciò che esiste. Questo per me è il reggae, per cui è presente in ogni cosa che facciamo, anche in quelle più elettro e pop dove magari il reggae non c'è, ma tecnicamente. Però c'è per questo, per la mentalità, per l'attitudine. Alcuno che da giorni i messi artisti allontano contro chi di questo stato, per una gabbia sta un accento reprimendo, per una scorta di cuore il ripeto chi da solo, se non c'è combattere si ferrette, sapete che significa? E' anzi l'azione, certamente quanto costa, ma il centro sociale è un vicino a Roma e dove. Grazie a tutti. Credo che la gente ami dei 99 posti il fatto che riesce a sentirsi in qualche maniera rappresentata dalle cose che diciamo. E questo non accade a caso, perché noi le cose che diciamo le diciamo proprio per rappresentarci, per tirare fuori un punto di vista che altrimenti non verrebbe fuori, perché è unico ed è quello di chi sta dall'altra parte, diciamo così, dalla parte del torto, dalla parte del di sotto, dalla parte sbagliata. Questo punto di vista è il punto di vista attualmente più o meno del 99% della popolazione mondiale. Però di solito quello che passa attraverso i network, nelle radio, le televisioni, sui giornali e anche a livello mainstream su internet, è il punto di vista dell'1%. Quindi quando ogni tanto si sente qualcuno che tu lo senti e dici ma cazzo, come se l'avessi scritto io, mi piace, mi sento rappresentato da questa cosa, questo fa scatturire in te qualcosa di più del dire ok, sono un ascoltatore di questo gruppo, sono il fan di questo gruppo. Io questo gruppo lo amo, io penso che capiti questo con gran parte delle persone che ci seguono. E tra l'altro è un amore ricambiato. Reggae today ripetutamente, sentilo tu ripetutamente, assieme Zulu ripetutamente, ripetuta 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 ripetutamente. La storia oltre che non la morte Ma la tranquillità, il caso alcuno del trovandasi la stabilità Tu non resta usare a casa e di una fragilità Sbaglio, sentivo una fragilità Sbaglio, io, io Apprezzio, come more, proprio sotto al top Amore, forse unire il spettato Aumentalo per solo, forse giudici a mente Il progetto, lo padrono, forse analizzano Spaccia, tutta la pietra Non so dire dove nasce quel calore Ma son che brucia Altre e tre Il progetto, lo padrono, lo padrono, forse uno lo puoi cercare Una santa è la parente Il notificità E la visita è una vita che vera un'intensità Ma il tua è la cosa tenza, della netta quel calore Ti brucia il mente, odio, mozzo, l'amore Amore, amore Ulla, 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 ulla 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 Grazie a tutti.